Sì! Conoscete il concetto di evoluzione? Ai loro tempi, gli umani erano capaci di molte grandi cose. No! Potevano volare, come le aquile, parlare attraverso gli oceani. Ma ora è il nostro tempo. Ed è il mio regno. Noi impareremo. Le scimmie impareranno. Io imparerò. E io... conquisterò. Fuori! La leggenda dice che scimmie umani vivevano fianco a fianco, per quanto impossibile sembri. Perché le danno la caccia? È più intelligente di molti. Gli anziani non ci hanno detto tutto su questo mondo. Inchinati al tuo re. Scimmie cacciano umani. Questo... è sbagliato. è morto. Insieme... voi morirete. inizio. No. Insieme. Forti. Sì! Grazie a tutti.